Salone del Mobile 2024, siamo da Caleido e presentiamo un nuovo sistema di riscaldamento che si chiama Infinito. Credo che sia intuibile perché nel titolo Infinito qui alle mie spalle si vedono numerose configurazioni che questo prodotto può assumere. L'idea è quella di generare un elemento riscaldante flessibile che possa essere utilizzato in ogni contesto e che possa essere quindi giocato da ogni progettista nel modo più opportuno e più funzionale rispetto al progetto e all'obiettivo che ha. Caratteristiche del sistema Infinito è la massima flessibilità, è stato pensato per componenti, queste componenti sono delle componenti lineari, delle componenti angolari che consentono addirittura di girare attorno agli spigoli ed è pensato per poter essere adattato a diverse altezze degli ambienti in cui viene inserito e la sua capacità quindi interpretativa consente a chi lo utilizzerà di poterlo adattare al meglio nei suoi progetti. Quindi un progetto pensato per chi progetta gli ambienti del benessere.